Della scorsa settimana il Ministero della Sanità ha avviato la campagna anti-influenzale per la stagione 2015-2016. In Sicilia partirà inizio novembre e si protrarrà sino alla fine dell'anno. L'influenza, riporta il Ministero sul sito internet istituzionale, è una malattia che ricorre in ogni stagione invernale e può avere un andamento imprevedibile. Ogni anno, si legge ancora, impegna importanti risorse del sistema sanitario nazionale. Negli anni scorsi in Sicilia il picco delle vaccinazioni si è avuto a ridosso delle festività natalizie. Da qualche giorno, tuttavia, il farmaco è già arrivato nelle farmacie e presto sarà distribuito anche ai medici di base e alle strutture sanitarie competenti. Il vaccino è comunque indicato per tutte le persone che desiderino evitare di contrarre il virus. Si può acquistare in farmacia al costo di 8,90 euro, ma per un'ampia fetta di popolazione il farmaco è gratuito. Il vaccino è anti-influenzale, in quanto previene da altre complicanze che possono derivare da una banale influenza, cioè le bronchite, le broncopolmonite. Quindi in ogni caso conviene sempre vaccinarsi soprattutto le categorie a rischio, che sono gli anziani, chi soffre di cardiopatia e i bambini e che ha un sistema immunitario un po' debilitato. Sono già disponibili? Sì, sono già disponibili. In farmacia si può acquistare, questo è il periodo, insomma, diciamo così, generale per farlo, prima che iniziano le prime influenze. C'è bisogno di una prescrizione? Sì, di solito il medico di famiglia consigliarlo. Comunque non esclude che ci si può vaccinare chiunque, anzi evita giorni a letto e problemi vari. Esenti dal pagamento sono ad esempio le persone che hanno compiuto 65 anni, i bambini, le donne che si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante il picco epidemico, soggetti affetti da particolari patologie, operatori sanitari che hanno contatto diretto con i pazienti e altri soggetti definite a rischio. Il nuovo vaccino, secondo quanto disposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è capace di tenere lontane sia le influenze del tipo A che del tipo B e contiene la variante A della California del 7 2009 H1N1, la variante antigenica di sottotipo H3N2 del tipo A Switzerland 9715293 del 2013 e il ceppo virale di tipo B, Puket 3073 del 2013. Per difendersi dall'influenza, i medici, oltre alla vaccinazione, consigliano anche di eseguire semplici gesti quotidiani come lavarsi spesso le mani, coprirsi naso e bocca quando si starnutisce, evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non lavate. Tutti i dettagli per la campagna di vaccinazione 2015-2016 in Sicilia sono contenuti nel decreto numero 1735 firmato lo scorso 13 ottobre dall'assessore regionale alla salute Baldassa Regucciardi.